Allora, se il Gianmarco... Sono parlate di invasione, Centinaio. Sì, sì, questa è un'invasione vera e propria. Dove sta l'invasione? Se questi vengono e poi se ne vogliono andare? L'invasione sta nel fatto che nel momento in cui questi signori vogliono andare all'estero e nel momento in cui arrivano all'estero, sappiamo benissimo... Queste persone vogliono andare all'estero e arrivano all'estero, dall'estero ce le rimandano indietro. Ce le rimandano indietro! Perché sono arrivati in Italia e si devono far riconoscere in Italia. E lo sappiamo benissimo. E il pensiero che ci siano soldi pubblici utilizzati per delle persone che non si vogliono far riconoscere nel momento in cui in Italia ci sono 10 milioni di persone sotto la soglia di povertà, 10 milioni di italiani sotto la soglia di povertà, mi farà brividire e mi rende ancora più sicuro che questo governo deve essere mandato a casa immediatamente. E facciamo vedere a lei e all'ex ministro.